La tua matita inizia a fare uno schisso e via, via con un filo di gas, ti capi? Poi ti è dato tutta una bella tavolossa, ti capi, con quei 5-6 mila euro a coloro che è sora e con i tuoi pennelli che va da che snin snin, proprio che bisinin, che robinin, proprio snin snin e proprio attraverso i tuoi pennelli andrai a fare i tuoi quadretti, ti capi? Pensa a te, allora, Amar Rahman, queste sono nozioni importantissime, se utilizzate i colori ad olio Amar Rahman, utilizzate sempre l'olio di lino e portate sempre dietro l'olio di ricino non si sa mai dal volto, ti capi? E ricordate, mi raccomando, ricordate sempre aspetta un momento che ho una roba, un'illuminazione, è che ho fatto? Allora, ricordate sempre di dare il colore verso, sempre in un verso, praticamente come quando hai i massaggi linfodrenanti che proprio ti spingi dal basso verso l'alto, ti capi? Perché dopo mi vai a dispellere i liquidi in escesso dagli occhi perché pur qua piangi dal male, sembra quasi quando scannano i baghini, hai capito? Allora, finito di dipingere, mi raccomando i pennelli, lavali bene, Amar Rahman, lavateli bene con la triellina e che tra l'altro, sta triellina può servirti anche per fare due fumenti prima di andare a dormire, ti capi? dal volto, c'è un po' di sé, fai due fumenti con la triellina e vai nel letto con un filo di gas. Bon, allora, mon ami, veramente, io sono arrivata alla frutta di questa première lezione, poi c'è un sacco di illuminazione, anche io, non mi resta veramente che salutarvi e augurarvi a tutti quanti una grande, grandissima illuminazione. Affettuosamente, votrela là. Allì, bonbon, andiamo, spingi, va là, spingi sto roba.